E' prevista per giugno a Torino la ripresa di una causa civile per l'attentato al Museo del Bardo di Tunisi il 18 marzo 2015. L'iniziativa legale è stata attivata dai familiari di una delle vittime, Antonella Sesino, contro la Costa Crociere citata in giudizio per aver organizzato un'escursione a Tunisi nonostante i rischi e per non aver fornito ai partecipanti le informazioni necessarie. Gli avvocati dello studio legale Ambrosio e Comodo hanno sottolineato nei ricorsi che esistevano in proposito informative della Farnesina e che circolavano dei video in cui si annunciavano attentati. I figli di Antonella Sesino, Giacomo e Simone e l'ex marito della donna Lorenzo Barbero, dipendente del comune di Torino, non hanno accettato i 150.000 euro proposti da Costa Crociere a titolo di indennizzo. Costa Crociere si è costituita in giudizio e ha negato ogni responsabilità, sottolineando nella comparsa di citazione come l'escursione a terra fosse stata organizzata da un altro operatore.